Prima di iniziare a vedere i grafici e parlare proprio dei prezzi del franco svizzero andate sempre su cambiavalute.ch e controllate nella pagina delle promozioni perché c'è sempre qualche promozione attiva e nello specifico in questo periodo bisogna iniziare ad attrezzarsi con la nuova vignetta autostradale ecco che se diventate clienti di cambiavalute ve la regaliamo noi trovate appunto la promo sul nostro sito andiamo subito sul grafico del franco svizzero che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ci ha dato delle belle soddisfazioni vi ricordo come sempre che in questo momento voi state vedendo il grafico del cambio euro franco svizzero quindi quando il prezzo scende come in questo caso lo vedete scendere in verità è perché nel mondo dei mercati finanziari abbiamo il cambio euro franco e non franco euro e di conseguenza essendo l'euro la prima valuta al numeratore vediamo appunto il valore dell'euro scendere nei confronti del franco svizzero quindi quando vediamo i prezzi di un grafico che scendono significa che in verità è il franco svizzero che sta guadagnando valore nei confronti dell'euro quindi cosa è successo? ci eravamo lasciati lo scorso mese sui minimi storici del cambio avevamo effettivamente previsto grazie alla stagionalità che vedremo anche nel webinar di oggi una potenziale ripresa del cambio che effettivamente c'è stata e ora siamo di nuovo dopo aver segnato dei nuovi massimi storici per il franco svizzero siamo di nuovo qui in un momento dove dobbiamo cercare di capire appunto se a breve arriveranno dei nuovi massimi per il franco oppure diciamo che potrebbe svilupparsi un movimento che tecnicamente sui mercati finanziari viene chiamato movimento laterale quindi di un nulla di fatto praticamente uno spostamento del prezzo tra massimi e minimi ma abbastanza laterale andiamo quindi sul sito di cambiavalute.ch perché per appunto cercare di fare questa previsione andremo ad utilizzare il nostro tool della stagionalità e lo trovate anche questo sul sito appunto sotto la voce tools avete sia il tool del calcolo del salario netto ma anche quello della stagionalità che cos'è la stagionalità? molto semplicemente se andiamo a prendere per esempio la temperatura della città di Milano vediamo una cosa molto intuitiva quando si parla di temperatura ovvero che tendenzialmente ha una media più bassa durante l'inverno qui siamo a gennaio e infatti vediamo che la media nella città di Milano è di 2 gradi e mezzo circa e poi c'è questo pattern ricorrente che vede appunto la temperatura alzarsi fino ai mesi estivi e di conseguenza poi scendere di nuovo verso i mesi invernali ecco ovviamente non abbiamo una precisione matematica non possiamo sapere esattamente in un determinato giorno quanto sarà la temperatura ma possiamo aspettarci appunto che questo pattern, questo disegno più o meno nel tempo venga rispettato ecco so che sembra strano ma sui mercati finanziari avviene una cosa molto molto simile quello che noi abbiamo fatto è stato andare a mettere sullo stesso grafico tutti gli andamenti del franco svizzero degli ultimi vent'anni come vedete e quello che andiamo a fare in questo appuntamento è cercare appunto di capire se c'è un comportamento ricorrente in determinati momenti dell'anno quindi quello che possiamo andare a fare in questo caso è vedere a partire per esempio da oggi come si è mosso in passato il franco svizzero nel mese che abbiamo qui di fronte quindi a partire da oggi siamo al 15 possiamo arrivare a fare una previsione fino alla fine del mese di gennaio 2024 andiamo subito a vedere che cosa ci dicono le statistiche vi ricordo appunto che in questo caso stiamo guardando il cambio euro franco ok quindi per fare i ragionamenti sul vostro stipendio chiaramente dobbiamo ribaltare il tutto ma nello specifico vediamo sostanzialmente che come avevamo ipotizzato all'inizio è molto probabile che da qui a un mese e mezzo quindi fino alla fine di gennaio i prezzi dell'euro franco non vadano praticamente da nessuna parte perché? perché se andiamo a vedere le statistiche vediamo che negli ultimi sette anni nel 42,9% dei casi quindi più o meno la metà il cambio euro franco è salito questo significa che addirittura nel 42% dei casi il franco svizzero ha perso di valore nei confronti dell'euro ma di pochissimo perché come vedete qui sia negli ultimi sette che negli ultimi cinque c'è stato un movimento rialzista quindi ribassista per il franco solamente dello 0,5% se andiamo a fare l'operazione inversa vediamo che le statistiche ovviamente più o meno non cambiano siamo sempre nell'ordine del 50% con una performance del franco svizzero tra l'1,4 e lo 0,9 quindi diciamo che esattamente poi come possiamo vedere da questa immagine che disegna la media degli ultimi sette anni dell'andamento vediamo appunto che siamo di fronte ad un periodo dove è molto probabile che il cambio il franco svizzero passatemi il termine cazzeggi un pochettino semplicemente su questi stessi livelli dove lo stiamo vedendo adesso quindi non è escluso che si possa tornare sui livelli di 0,9650 però diciamo che in questa fase nel prossimo mese diciamo che abbiamo un 50,50 di possibilità che il franco svizzero vada a fare un nuovo minimo ecco quindi e di conseguenza nuovo minimo per l'euro franco significa un nuovo massimo per il franco svizzero cosa però che cambia perché se proviamo un attimino a guardare un po' più in là quindi non ci fermiamo all'inizio di febbraio ma andiamo a guardare un po' più in là vediamo invece che già nel mese di febbraio potremmo assistere addirittura anche a dei nuovi massimi per il franco svizzero quindi facendo un riassunto di quello che abbiamo visto in questo webinar quello che possiamo aspettarci è una fase laterale in questo momento dove i prezzi del cambio franco svizzero non dovrebbero cambiare particolarmente con poi un'accelerazione a rialzo per il franco svizzero però già nel nuovo anno parliamo del 2024 dopo assolutamente la seconda metà di febbraio ovviamente ragazzi queste sono statistiche non abbiamo la certezza matematica che questo avvenga dobbiamo chiaramente cambiare i nostri soldi se ne abbiamo bisogno non dobbiamo affamare le nostre famiglie perché magari potrebbe essere la statistica ci dice che ci sono delle probabilità che nel mese di febbraio marzo ci sia un nuovo massimo per il franco svizzero però diciamo che se non avete proprio estrema necessità di cambiare dei soldi in questo momento si potrebbe quantomeno una parte aspettare a cambiarla e cambiarla appunto nel nuovo anno dopo il mese di febbraio dove potremmo assistere a dei nuovi massimi storici per il franco che lo ricordiamo sta diventando sempre di più un bene rifugio quindi è una valuta è una moneta dove investitori di tutto il mondo parcheggiano il loro denaro visto che anche di recente la banca centrale svizzera ha iniziato anche addirittura a pagare un tasso di interesse a chi detiene il franco svizzero di conseguenza è diventata ulteriormente una valuta molto appetibile non solo perché la svizzera è un paese stabile e di conseguenza ha una valuta forte ma anche perché chi detiene la valuta comunque incassa anche un tasso di interesse vi ricordo che il tool della stagionalità lo potete utilizzare anche in autonomia è molto molto semplice ecco vedete per esempio che se andiamo a mettere addirittura le statistiche a 20 anni potete andare a vedere se un mese è tendenzialmente positivo o negativo per il cambio ricordatevi sempre che quando si guarda l'euro franco se per esempio in questo caso febbraio lo vedete è un mese particolarmente negativo vuol dire che è particolarmente positivo per il franco svizzero quindi come vedete quello che abbiamo detto si rispecchia anche nelle statistiche mensili il mese di febbraio statisticamente è un mese particolarmente propizio per un rialzo del franco svizzero inoltre vi ricordo che una volta che fate il login all'interno del portale di cambiavalute dove potete effettuare i vostri cambi avete la possibilità di guadagnare un bel po di franchettini invitando i vostri amici a cambiare con noi quindi basta andare appunto nella pagina principale che trovate una volta che vi collegate a cambiavalute e cliccando su invita i tuoi amici trovate questo qr code che potete addirittura anche condividere direttamente su whatsapp e tutto in automatico il sistema vi riconoscerà il premio appunto qualora il vostro amico a cui avete segnalato cambiavalute andrà a cambiare con noi grazie a tutti